Un saluto a tutti gli utenti di Italia Medievale, oggi presentiamo un bel volume che è appena pubblicato da Pisa University Press dal titolo L'Uno e l'Unità di Alfarabi, quindi un trattato di un autore nato a Otra e morto a Damasco che è stato tradotto e commentato da Cecilia Martini Bonadeo, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo volume. Prego, professoressa, a lei. Grazie, grazie per l'invito e per l'occasione di parlare di questo libro che nasce in un modo un po' particolare, come si può leggere dalla nota di edizione, e cioè è vero che ho curato la revisione del testo arabo, la traduzione e il commento, ma l'ho fatto con quattro giovani ricercatori che si sono formati a Padova. L'analisi di questo libro, di questo testo, è iniziato in un nostro seminario il venerdì pomeriggio, quando i locali dell'università spesso sono liberi, ci siamo messi al lavoro, l'abbiamo letto, tradotto e commentato. Doveva essere inizialmente una traduzione, ma quando abbiamo preso l'edizione di Madi, uscita per l'Etub Kal, alla fine degli anni Ottanta, tra le mani, ci siamo resi conto che il testo aveva bisogno di essere rivisto, anche criticamente, nella sua lingua, nella lingua in cui è stato scritto, insomma, nell'arabo. Quindi i coautori con me di questo volume sono Sara Abram, Luca Farina, Marianna Zarantonello e Giovanni Mandolino. E ci tengo a ricordarlo perché è bello che queste ricerche anche così specialistiche nascano da un lavoro di equip e grazie all'aiuto, all'entusiasmo, alle competenze di giovani ricercatori, insomma. Quindi c'è ancora un po' di speranza nel nostro ambito di studio. Al-Farabi è questo autore che è attivo soprattutto a Baghdad nel X secolo. La tradizione araba lo designa come al-Mualli-Mattani, cioè il maestro secondo, secondo a chi? Ovviamente ad Aristotele, che è il principio d'autorità sotto cui si costituisce il peripatetismo arabo, che non è semplicemente una forma di tradizione aristotelica, ma sotto la maschera o l'Aristotele virtuale associa dottrine diverse di derivazione aristotelica, di derivazione platonica e soprattutto neoplatonica. Infatti noto che all'inizio della tradizione araba, nel circolo di Al-Kindi, il grande autore che precede la stagione di Al-Farabi, vengono elaborati due testi pseudoepigrafi, la pseudo-teologia di Aristotele e il libro di Aristotele sul bene puro, che sono rivisitazioni rispettivamente dell'Enea di 4, 5 e 6 di Plotino e degli elementi di una selezione parafrastica di alcune proposizioni tratte dagli elementi di teologia di Proclo e che si presentano come scritti da Aristotele. Aristotele, dopo la sua indagine delle cause del mondo sensibile compiuta nella metafisica, presenterebbe in questi due testi invece la sua teologia, nota in arabo anche come il marrububia, che significa scienza della sovranità, sovranità di chi? Sovranità del primo principio, di un principio che deve conformarsi al dio coranico, quindi a un dio creatore, provvidente e prima ancora unico. e già questa idea di unità così forte che caratterizza il pensiero islamico potrebbe introdurre a questo libro, se non che questo libro, l'uno è scritto nel titolo appositamente con la U piccola, perché al Farabi si prefigge un'analisi, una disamina linguistica di questa nozione, uno che è polivoca, equivoca, e quindi presenta tutta una serie di significati di uno e anche tutta una serie di significati di molti. Noi, come diciamo nell'introduzione, ma anche poi nel commento, abbiamo molto evidenziato questo aspetto di questa analisi linguistica. Al Farabi scrive un'operetta sugli intenti della metafisica di Aristotele, che poi sarà importantissima per Avicenna, Avicenna dirà di aver capito la metafisica di Aristotele solo dopo la lettura di questo libricino di Al Farabi, dove dice appunto che la metafisica non è soltanto teologia razionale, cioè non è soltanto la Ilman-Rububia, l'analisi del primo principio, ma la metafisica è la scienza universale, la scienza che studia l'ente in quanto ente e che è egemonica rispetto a tutte le scienze particolari di cui individua il soggetto. E studia l'ente in quanto ente, quindi l'essere, ma anche ciò che gli equivale in universalità, cioè l'uno, e poi siccome secondo il modello degli analitici secondi la scienza dei contrari è una, studia anche il molteplice e il non essere. Allora all'interno di questa cornice è più facile capire il senso di questo scritto sull'uno e l'unità in cui Al Farabi si impegna in questa disamina di tutti i possibili significati di uno, di unità, di molti e di molteplice. Devo dire che è un testo faticoso, la traduzione è una traduzione dura ed è un testo faticoso per diverse ragioni, intanto perché comincia in media stress, quindi senza preambolo, senza indicazione dello scopos dell'opera e quindi è l'interprete che un pochino muovendosi in questo testo deve cercare di tracciare alcuni elementi di continuità, una divisione del testo. Poi è un testo che non appare rifinito, tanto è vero che nell'ultima parte compaiono riepiloghi e riepiloghi dei diversi significati di uno esaminati e anche questo rende a volte difficile la comprensione del testo. In ogni caso noi abbiamo cercato di essere molto leggeri con la partitura del testo, eliminando paragrafi e sottoparagrafi che caratterizzavano la precedente edizione e che talvolta secondo me levavano comprensibilità al testo, cioè non si sapeva più se si stava leggendo Farabi o il suo editore. Abbiamo introdotto il testo anche con l'ausilio di una tabella per dare un po' una visione di tutti i diversi significati di uno indagati da Farabi e abbiamo corredato questo testo così duro di un commento e diciamo che nel commento abbiamo usato un duplice criterio, e cioè da un lato individuare le fonti che Al-Farabi utilizza. E a questo proposito è molto interessante osservare che nell'ambito della tradizione filosofica araba di X secolo si raggiunge l'apice del momento di traduzione e la massima circolazione dei testi della filosofia antica e tardo-antica ma anche della letteratura esegetica avessi dedicata. Tanto è vero che Gerard Endres in un suo celebre saggio parla di questa disponibilità di testi, polivocità di opinioni, anche di affonia di opinioni e competizione di modelli, proprio mettendo insieme tutti questi aspetti parla di open society, parlando del X secolo a Baghdad. E poi invece un secondo elemento che ricorre sempre nel commento è quello per cui facciamo vedere come un certo significato di uno distinto da Al-Farabi, da un punto di vista di analisi esclusivamente linguistica, ricorre poi applicato nei suoi altri trattati, in particolare nei trattati sistematici e non solo, a caratterizzare un certo livello di realtà. Quindi dal primo principio le intelligenze, i cieli, il genere, la specie, l'individuo e quindi come questa analisi linguistica in realtà è fondamentale alla comprensione del sistema filosofico tutto di questo autore, perché altrimenti la sua indagine potrebbe apparirci quasi ipertecnica, diciamo, ma sarebbe difficile cogliere quanto invece sia valida come strumento di analisi delle sue dottrine. Queste le caratteristiche principali, è significativo che questo testo che era stato edito appunto alla fine degli anni Ottanta non fosse mai stato tradotto in una lingua occidentale, se non in un lavoro per un bachelor ad Oxford negli anni Sessanta, lavoro dove era stato tradotto in inglese, questo lavoro non è mai stato pubblicato, risentiva del fatto che il suo autore conosceva due sui tre manoscritti che conservano l'opera e quindi penso che questa prima traduzione potrà certamente favorire studi anche più accurati del nostro su questo testo. insomma abbiamo in qualche modo, spero, aperto una via a ricerche anche più approfondite della nostra, perché per noi è stato veramente molto difficile pur dissodare il terreno, ecco diciamo così. Abbiamo nella nota editoriale voluto ricordare tutte le persone che ci hanno veramente aiutato in questa ricerca, tra cui la Facoltà di Lingue Orientali di Oxford che ci ha concesso la visione di questo testo, di questa tesi inedita, il professore Melle Di Nisano che ci ha dato una mano a procurare i manoscritti, di Rudiger Arzen con cui abbiamo rivisto il testo arabo, insomma è stato veramente un lavoro di squadra di cui io sono molto fiera anche perché questi ragazzi hanno tutti i coautori del volume, questi giovani ricercatori hanno tutti curato una parte. Un altro aspetto che distingue questo lavoro è l'utilizzo di tutti e tre i manoscritti che conservano l'opera anche rispetto alla precedente edizione di Madi perché studiando la tradizione manoscritta abbiamo visto che due codici che Madi riconsiderava padre e figlio in realtà sono fratelli e quindi sono da considerare, sono da tenere entrambi in apparato critico, quindi anche da un punto di vista proprio del testo arabo è un testo molto diverso dalla precedente edizione. Si aggiunga a questo una caratteristica nelle pagine introduttive della precedente edizione Madi diceva che dove il testo non tornava per forma o per struttura lui suppliva ponendo le parole mancanti tra parentesi quadra. Il problema è che l'intervento che normalizza il testo arabo è talmente frequente che per il lettore anche avvertito è impossibile leggere questo testo prescindendo da tutte queste parentesi quadri che ricorrono con parole che non sono presenti nei manoscritti. Quindi insomma anche dal punto di vista del testo arabo credo che possa considerarsi sicuramente un passo avanti rispetto a quello di cui prima disponevamo. Ebbene, è un bel lavoro complesso, sicuramente interessante anche per entrare nello spirito di un autore del decimo secolo arabo che affronta questioni filosofiche, esistenziali di rilevante importanza anche per chi viene dopo. Quindi ricordiamo il titolo perché bisogna andare a comprarselo questo assolutamente e il titolo è L'uno e l'unità di Alfarabi, traduzione di Cecilia Martini Bonadeo appena pubblicato da Pisa University Press. E noi ringraziamo tantissimo Cecilia Martini per avercene parlato in maniera così esaustiva e a tutti voi ricordiamo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete questa videopresentazione insieme a tutte quelle realizzate fino ad oggi. Grazie ancora professoressa. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.